Ho tagliato a fette larghe 2 cipolle, i pomodorini sono pronti, verso dell'olio extravergine in padella metto uno spicchio d'aglio e a fiamma bassa lo faccio dorare, in quest'altra padella invece metto un filo d'olio e le cipolle, l'aglio è dorato, possiamo mettere i pomodorini. Quando siamo a metà cottura andiamo a mettere un pizzico di sale, mentre nelle cipolle andiamo ad aggiungere la pancetta, la pasta dovrebbe cuocere 7 minuti, quindi a 5 minuti vado a toglierla e la metto insieme ai pomodorini. Ho riacceso la fiamma, a fiamma lenta faccio continuare la cottura della pasta insieme ai pomodorini che avevano cotto soltanto 5 minuti. Passati 3 minuti, la pasta è al dente, vado a mettere il parmigiano, spengo la fiamma e ora vado a metterci le cipolle e la pancetta che come vedete sono ben abbrussolite. Possiamo impiattare. Ragazzi provatela, fatemi sapere com'è venuta, se vi è piaciuto il video mettete un like, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!